La linfa vitale dell'umanità, l'acqua, è sempre più a rischio in tutto il mondo a causa del consumo eccessivo e dello sviluppo eccessivo. Attività vampiristiche le ha definite l'ONU in un rapporto pubblicato a poche ore dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua a New York, che riunisce circa 6.500 partecipanti. È la seconda conferenza mondiale sul tema, 45 anni dalla prima, nel 77, che si apre in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Richard Connor, autore principale del rapporto Water 2023 dell'UNESCO, ha parlato dell'impatto della crisi idrica mondiale. Tra i 2 e i 3 miliardi di persone nel mondo soffrono di carenze d'acqua, ha detto, e la situazione potrebbe peggiorare. Da qui al 2050, la popolazione urbana che vive in situazione di stress idrico aumenterà dell'80%, passando dai 930 milioni del 2016, ha una cifra compresa tra 1 miliardo e 7 e 2 miliardi e 4. Una crisi che man mano colpirà tutti i paesi, causando migrazioni e conflitti. Nel nostro piccolo, però, ciascuno di noi può fare qualcosa, avverte Connor. Ogni volta che usate l'acqua in casa, sappiate che quell'acqua ha dovuto essere trattata e il trattamento utilizza energia. E l'energia non è generalmente rinnovabile. Quindi non solo contribuite all'esaurimento della risorsa idrica quando usate l'acqua in casa, contribuite anche ai gas serra e al cambiamento climatico. Quindi, più si pensa e si cerca di usare l'acqua in modo saggio, meglio è, visto che siamo miliardi. Ogni volta che ognuno di noi risparmia un litro, in realtà stiamo risparmiando miliardi di litri d'acqua. E ne vale davvero la pena.